Rimuovere i manifesti comparsi a Catania per il lancio del nuovo album Cella 5 del cantante Nico Pandetta e verificare come sia stato possibile rilasciare una concessione pubblicitaria e spazi su suolo pubblico a un pregiudicato per di più in stato di detenzione. A scriverlo in una lettera inviata al sindaco di Catania Enrico Trantino e il parlamentare regionale Ismaele Lavardera che esprime sdegno e preoccupazione ricordando che Pandetta è detenuto presso il carcere di Siracusa e nipote del boss catanese Salvatore Turi Cappello. Con l'intento di preservare l'onorabilità e l'integrità della città e dei cittadini che rappresenta, scrive Lavardera al sindaco, le chiedo di intervenire sin da subito rimuovendo i manifesti di questo soggetto qualora siano ancora presenti per le strade di Catania e di approfondire la vicenda con la ditta che gestisce il servizio, conclude il deputato Lavardera.